Qualcuno ha detto che nessuno restava in strada, ok siamo d'accordo la cassa integrazione straordinaria è valida per 24 mesi, però tutti si sono dimenticati che comunque tenere ferma la gente, le persone, gli operai che hanno lavorato per 30 anni da dentro per 24 mesi a 700-600 euro non è sostenibile. La FIOM CGL torna a chiedere certezze sul ricollocamento dei lavoratori della ferriera. Dopo l'avvio della cassa integrazione in aprile e la firma dell'accordo di programma a giugno, il sindacato che ha sempre mantenuto una posizione distinta dalle altre organizzazioni torna in pressing sulle stesse istituzioni firmatari di tale accordo. Per questo il 21 settembre in occasione della convocazione al tavolo sulla ferriera attueranno un presidio fuori dalla sede della Confindustria. Mantengano le promesse, quindi noi il 21 assolutamente ci incontreremo con l'azienda, ma dopo le istituzioni che hanno lavorato assolutamente per questa situazione qua devono rispondere assolutamente di quello che sta succedendo, quindi la situazione è a dir poco drammatica, le istituzioni dalla firma dell'accordo di programma sono sparite. Tra le richieste spicca la definizione urgente di un piano di rotazione e addestramento delle maestranze attualmente in cassa integrazione a zero ore e che si trovano in una situazione difficile come testimoni all'operaio che abbiamo intervistato. La situazione attuale è mia personalmente, è quella di, come diceva il mio collega, di essermi ritrovato a casa con Aprile, ricordo che siamo a settembre, sono passati 5 mesi, quasi 6, e lì sostanzialmente per quanto riguarda la riconversione, la riconversione non è partita, cioè lì non è stato messo neanche un bullone. Tutti hanno lavorato per far sì che una ditta, una fabbrica sul territorio che dava da lavorare a centinaia di persone venisse chiusa così senza appunto creare nessuna alternativa lavorativa né per i lavoratori diretti e tantomeno per l'indotto.